Ciao Che c'è amore mio? La maestra di matematica mi ha messo un brutto voto Ma perché amore mio quando stai in difficoltà non chiede aiuto alla mamma tua? Ci mettiamo il pomeriggio con amore, calma e pagatezza e risolviamo tutto Grazie mamma, sei la mamma più buona del mondo Com'è non lo so? Ma non ti hanno i muerti domani Com'è non lo so? Quanto fa 2 più 3? 5, 5, 5 E 3 più 2? No, 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 non lo so Carmelina non lo so, questo è veramente scemo come l'ottanieti Ma leggi che ha detto la maestra? Cambiando l'ordine degli... No, cambiando l'ordine degli addendo il risultato non cambia Tu lo sai che cos'è un addendo? Sì Ecco, e allora 3 più 2 quanto fa? Fai addendiona, addendo, addendo... Mmm, mi sto a fare confondi con me per la chiedi muerto Ragiona, se Carmelina c'ha 3 pesche, 2 albicocche e un ananas, che c'ha Carmelina? Dai Che c'è? Un fruttipendolo Non te ne vuoi ci...